A voi tutti ben ritrovati da Giuseppe De Vittis. Nessun cambiamento significativo, quindi il tempo rimarrà tranquillo quasi dappertutto su zone pianeggianti, come al solito degli addensamenti nuvolosi su zona attorno ai rilievi, anche se sarà basso il rischio di qualche fugace rovescio di pioggia, le temperature ancora sopportabili. Non voglio spaventarvi, però attenzione, ve l'ho già detto, nei prossimi giorni aumenteranno e la prima settimana ad agosto sarà davvero rovente, ci sarà purtroppo da soffrire, forse anche di più rispetto alle ondate piuttosto intense che abbiamo avuto nelle scorse settimane. Io per ora ho concluso, vi lascio con questa chicca purtroppo non positiva e naturalmente ci riaggiorniamo nel prossimo appuntamento.